Ed eccoci di nuovo in studio per la seconda parte del telegiornale. Riconoscimento di prestigio per la locanda dei buoni e cattivi di Cagliari. Il Gambero Rosso l'ha inserita tra i dieci migliori ristoranti d'Italia. Il locale è nato nel 2010 su iniziativa della Onlus Domus de Luna per dare un'opportunità a giovani che cercano nel lavoro un'occasione di riscatto. Vediamo il servizio di Carlo Macca. Matteo ci presenta l'insalata? Con pollo, pecorino, insalata, con l'esca di pecorino, insalata, pollo tagliato a filetti. La ricetta di Matteo, giovane aiuto cuoco nella locanda dei buoni e cattivi. Nel 2010 l'avvio di questa scommessa, bed and breakfast e ristorante aperti nel cuore di Cagliari. Ai fornelli, tra i tavoli, al lavoro nelle stanze giovani dal passato problematico e dal presente ricco di speranze. Lavorano, si formano, imparano nella struttura creata dalla Onlus Domus de Luna. Al loro fianco, in cucina, lo chef Roberto Pezza e il suo collaboratore Paolo Ghiani. Tutti intorno una struttura di educatori, genitori, volontari. Poi la decisione di partecipare al concorso nazionale del Gambero Rosso. Una istituzione, il Gambero Rosso. Una di quelle realtà capaci di dare slancio o stroncare la vita di un ristorante. Nei giorni scorsi, da Roma il verdetto, la locanda dei buoni e cattivi tra i primi dieci ristoranti d'Italia. I ragazzi e gli altri protagonisti della scommessa fanno fatica a crederci, fino a quando non arriva la consegna del premio a Roma. Quanto è bello vedere i progressi che fanno questi ragazzi in cucina. E' bellissimo perché poi dalle battaglie iniziali veramente a far capire loro a volte anche quanto è bella la puntualità, arrivare, impegnarsi, imparare anche un mestiere, imparare comunque che hanno dei doveri. E' sicuramente un successo. Il nostro obiettivo è quello di venire apprezzati per il nostro lavoro e per l'impegno che ci mettiamo. Noi abbiamo messo tanto impegno per riuscire a raggiungere questa qualità e siamo sicuramente contenti di questo.